Il massmediologo, giornalista e scrittore Klaus Davi sarebbe stato aggredito dall'alcuni frequentatori della moschea di Viale Genner a Milano dove stava svolgendo una serie di interviste e servizi sulle prossime elezioni americane e l'orientamento del mondo islamico sul tema. Lo riferisce lo stesso Klaus Davi in una nota sottolineando che è stato prima accerchiato da alcuni frequentatori della moschea che per strada lo hanno spintonato e hanno tentato di sottrargli il registratore. Riuscito a divincolarsi, Klaus Davi si è rifugiato in un bar vicino al luogo di culto dove alcuni uomini lo avrebbero inseguito fino all'interno del locale e gli avrebbero intimato di consegnare il loro telecamera e microfono. Pochi minuti dopo un acceso confronto fra il giornalista e i frequentatori della moschea alla presenza di numerosi testimoni, tre agenti della Digos e non allertata dal massmediologo che era impegnato ad evitare il peggio, sono entrati nell'esercizio. Lo hanno prelevato e caricato di tutta fretta sulla macchina e scortato verso la sua abitazione. La macchina della polizia sarebbe stata presa a pugni e calci dal gruppo, molti dei quali, secondo quanto riferito dagli agenti della Digos di Milano allo stesso Davi, erano muniti di lame e coltelli. Insomma, un episodio sicuramente da dimenticare il prima possibile.